Veniamo dal Veneto quindi è la prima volta che ci chiedono effettivamente Green Pass e trovo che sia comunque una misura giusta perché se l'unico modo per mandare via il virus è questo chi può fare la vaccinazione è giusto che lo faccia ed è giusto che venga controllato. Alla scoperta delle bellezze dell'arte e della cultura ma solo con il Green Pass da oggi scatta infatti l'obbligo della certificazione verde per l'accesso ai musei e al MUMEC il Museo dei mezzi di comunicazione di Arezzo a chiederlo ai visitatori sarà direttamente Emilio il robottino vera e propria icona degli anni 90. È stato un modo un po' per smorzare anche tutte le tensioni comunque che si sono registrate un po' nei giorni scorsi dopo la notizia di questa nuova modalità di ingresso all'interno delle strutture museali quindi un modo simpatico per comunicare queste nuove norme a cui piano piano anche purtroppo un po' però comunque ci adatteremo. In Piazza Grande al Museo della Fraternita dei Laici invece c'è un altro insolito controllore si tratta del Granduca di Toscana Pietro Lopoldo ritratto in un quadro presente nel palazzo e dipinto nel 1742. Per spiegare che appunto da oggi in tutti i musei e quindi anche nel Museo della Fraternita dei Laici sarà necessario esibire il Green Pass. La certificazione in corso di validità dovrà essere presentata in formato digitale o cartaceo all'ingresso di tutti i musei e sarà verificata tramite l'app nazionale. Prima appunto di fare il biglietto viene fatta la scansione con questo dispositivo al Green Pass e nel momento appunto che il Green Pass è valido chiediamo il documento di identità quindi controlliamo che il Green Pass effettivamente è di proprietà del visitatore e dopo di che procediamo facciamo il biglietto.